Luigi! Tutto è cominciato qui, in Italia, all'ombra del Monviso. Antonio, imbecille! È in una di queste case che abitavano mio nonno e mia nonna. Ogni inverno, prima che arrivasse la neve, metà degli abitanti andava in Francia. Spazzacamini, straccivendoli, gli italiani sapevano fare di tutto. I bambini impararono il francese a scuola. Perché c'è scritto così, papà? Perché... perché... perché hanno paura che i cani mordano gli italiani, capisci? Più a destra! Non si gioca col cibo. Forza, Gino! Ora guardate l'uccellino. Bugiardo, non c'è nessun uccellino. Mi resi conto che prima di essere la nonna, lei era stata giovane e bella ed era stata amata. Beh, si gioca col cibo adesso? No, non c'è nessun uccellino.